ok il risolvo è il classico lassativo di contatto cosa vuol dire non è irritante molto efficace però non possiede sostanze antracchinoniche forti quindi può essere usato da chiunque si prende la sera per per evacuare la mattina successiva ed è un ottimo un ottimo lassativo perché ha un sacco di componenti ha persino il psilio dentro i fermenti lattici il propoli il tarassaco è un vero e proprio riequilibrante lavante dell'intestino senza danneggiare senza creare forti assofazioni diciamo e quindi molto interessante gli altri poi abbiamo il X-Dol l'X-Dol è il non plus ultra dell'antinfiammatorio naturale possiede capostipite la pianta dominante la curcuma al 95 per cento di curcumina abbinata a boswellia acido ialuronico e e mangostano sono le quattro piante più interessanti dal punto di vista proprio antinfiammatorio naturale permette di buttare via qualsiasi tipo di farmaco chimico e instaurare un sistema di infiammazione che dura come solito su 6 7 8 ore di beneficio proprio a livello anche antidolorifico ma soprattutto antinfiammatorio per tutte le 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 possibili impieghi della situazione ok poi cosa abbiamo poi c'è l'X-Brain l'X-Brain che nasce dall'idea di creare un antistress piante adattogene abbinate a piante calmanti che riescono a riequilibrare il soggetto in modo da non avere mai situazioni di stress la situazione sotto controllo focalizzata vivere nel presente tutti fanno prodotti contro l'ansia ricordiamoci sempre che la prima cosa che noi che crea l'ansia e lo stress uno stress sostenuto poi si tramuta in ansia così via se noi preveniamo lo stress evitiamo tutte le escalation delle malattie neurologiche ansia depressione tutto il resto